Chiunque sostenga che gli squat completi facciano male le ginocchia ha dimostrato con questa affermazione in via definitiva di non avere alcun titolo per avere un'opinione a riguardo. Cheat Mark Ripeto. E' un buon libro che vi consiglio di leggere. Oggi parliamo proprio di un'informazione molto importante che ho estrapolato da questo libro e che voglio proporre a voi. Nel video sullo squat tutorial nei commenti è sorta una questione piuttosto interessante riguardo la retroversione del bacino in buca con conseguente dolore al ginocchio. A questo commento ho risposto che probabilmente è una questione dovuta al fatto che c'è un'eccessiva rigidità della schiena alta che innesca una serie di problemi che si susseguono a catena fino ad arrivare a provocare il dolore al ginocchio che si sta sentendo. Inutile dire che, come normale che sia, questa frase ha suscitato tanto interesse da parte vostra. Quindi ho deciso di trattare l'argomento più approfonditamente in un video piuttosto che scriverlo in un commento lunghissimo e non avrebbe avuto senso. Quando lo squat fa male le ginocchia? Qual è la connessione con la retroversione del bacino? Cosa c'entra la schiena alta, rigida, con il dolore al ginocchio? In questo video rispondiamo proprio a queste domande qui. Per rispondere a queste domande andiamo a pescare uno studio di Escamilla et al. Sono un botto di nome, c'è Escamilla, Flaesige, Lowry, Barentine, Andrews. Il nome dello studio è A Three Dimensional Biomechanical Analysis of the Squats During Various Stance Weeds. Tradotto in italiano un'analisi tridimensionale della biomeccanica dello squat con varie larghezze della stanza dei piedi. Tra l'altro questo è lo stesso studio che distrugge completamente la teoria del guarda che mandare le ginocchia avanti alla punta del piede fa esplodere tutto in mille pezzi. Ma comunque non siamo qui per parlare di questo. Se vi interessa questo argomento vi invito ad andare a vedere il video che ho fatto in merito, ve lo lascio in descrizione. Bene, qui in questo video ci concentriamo sulla fase dell'affondo dello squat. Quindi la fine della fase eccentrica dove appunto stiamo raggiungendo la buca. In questo studio che abbiamo citato viene valutata la traslazione in avanti delle ginocchia in base alle varie stance dei piedi. Partendo dal presupposto che stance strette corrispondono ovviamente ad una maggiore traslazione in avanti delle ginocchia mentre stance più larghe ha una minore. Ok, qui adesso arriva la cosa che interessa a noi. Cito il libro di Vaccario e Bomboletti di cui vi ho parlato prima. Fino a che la bassa schiena viene tenuta in estensione e di conseguenza il bacino è in anteroversione, gli schiucrurali sono pienamente attivati durante l'esercizio e di conseguenza riescono ad assorbire buona parte delle forze di taglio generate sull'articolazione nel ginocchio dei quadricipiti. Ok, qui la situazione inizia a farsi interessante. Quello che ci viene detto è praticamente che fino a che il bacino è in estensione, quindi il rachide mantiene la sua neutrale curvatura fisiologica, il bacino riesce appunto a tenere i muscoli posteriori della coscia in tensione come un elastico e questa tensione riuscirà a togliere buona parte delle forze generate dal carico, forze di taglio, che altrimenti se non ci fosse questo assorbimento andrebbero direttamente sul ginocchio. Questo è importante e dobbiamo tenerlo presente, quindi lo squat non fa male al ginocchio a meno che non perdiamo il bacino essenzialmente. Questo è quello che ci sta dicendo questo studio. Come facciamo a non perdere il bacino? Qui entra in gioco quello che vi ho scritto nei commenti, la schiena alta troppo rigida potrebbe essere uno dei problemi. Durante la discesa, per una tenuta ottimale del tratto lombare, quindi del quadrato dei lombi, che è quello che interessa a noi effettivamente, perché poi va a generare la retroversione del bacino, bisogna cercare di rilassare quanto più possibile il tratto dorsale, in quanto i muscoli della schiena si dice che funzionino con il principio della coperta corta. Questo sentitelo perché è figo, ascoltate bene. Essenzialmente, contraendo la schiena alta, quella bassa perde tensione e viceversa. Questo è il principio della coperta corta. La coperta è troppo corta, tirando da una parte scopri l'altra parte, diciamo. Quindi questo a cosa comporta? Contraendo eccessivamente la schiena alta, per il principio della coperta corta, togliamo tensione al tratto lombare, alla schiena bassa. Questo a sua volta porterà ad una retroversione del bacino, che a sua volta porterà ad una mancata estensione dei muscoli posteriori della coscia, che a sua volta questo porterà a buttare, non poter assorbire le forze di taglio generate dal carico e quindi queste finiranno tutte verso il ginocchio, perché non c'è niente che riesca appunto a dissipare queste forze di taglio. Bam! Trovato! Questa è la concatenazione di cui vi parlavo in precedenza. Una cosa che sarebbe stata difficile da spiegarsi prima di analizzare questo studio. Come correggere quindi questo problema? Il problema della schiena alta troppo rigida? Ci sono due modi principalmente. Uno sicuramente è quello di creare, cercare di creare meno tensione nella schiena alta, per tutto quello che abbiamo spiegato finora. Se sei in high bar, se stai facendo uno squat col bilanciere sul trapezio, molla la tensione, non c'è alcun senso, non ha senso tenere la schiena super rigida. Lavora per rilassarla il più possibile e compattati di più nella zona più bassa. Se sei in low bar, un po' di tensione nella schiena alta è fondamentale per creare quello scudo muscolare che ti permetterà di accogliere il bilanciere. Qui trovare un giusto compromesso tra tensione alta e tensione bassa è l'ideale. Farò probabilmente un video dove parlerò a parte del low bar, del posizionamento del bilanciere nel low bar, per entrare più nel dettaglio. Se vi interessa ditemelo nei commenti. Seconda cosa che possiamo fare per ovviare a questo problema della retroversione del bacino è allungare o imparare ad attivare i muscoli posteriori della coscia e del quadrato dei lombi. Molto spesso non c'è nemmeno bisogno di allungare i muscoli con improbabili posizioni di stretching. La causa è invece probabilmente correlata molto spesso, la maggior parte delle volte, ad una mancata attivazione muscolare della catena posteriore. Qui quindi un consiglio molto figo che ho imparato non mi ricordo minimamente dove, questo mi dispiace, è pensa nella fase eccentrica, quindi nella fase di discesa, col bilanciere sulle spalle, di stare facendo un curl con il bicipite femorale. Essenzialmente pensa di essere nella leg curl. Hai presente il movimento che fai nella leg curl? Una flessione della gamba sulla coscia. Quello è il movimento che stiamo ricercando. La sensazione, l'attivazione muscolare. Quando sei in piedi con il bilanciere sulle spalle, quindi pensa di preattivare i muscoli posteriori facendo un leg curl per portarti in buca. E quindi controllando maggiormente sia la fase eccentrica. Farai più fatica, soprattutto neuralmente, ma ti permetterà di arrivare, di attivare il gruppo di fasci muscolari che stiamo cercando di attivare essenzialmente. Quindi discesa lenta, pensando di fare un curl con la gamba. Inizia il movimento con il bacino e prosegui buttando le ginocchia verso l'esterno, come faresti in qualsiasi altro squat. Inserisci due o tre serie da 5-10 ripetizioni all'interno della programmazione, potrebbero essere chiamati molto semplicemente tempo squat, quindi eccentrica controllata. E se non hai la possibilità di inserirli nella programmazione, fallo semplicemente nel riscaldamento prima di partire con le serie allenanti della tua sessione di squat naturale. Fallo per un paio di settimane e noterai che già imparando ad attivare i muscoli corretti durante la discesa riuscirai ad ovviare al problema della retroversione del bacino e quindi questo, per via della concatenazione di cui abbiamo parlato prima, andrà probabilmente a toglierti quel dolore che stai sentendo al ginocchio una volta appunto disinfiammato probabilmente il tendine o pattellare o del quadricipite, di solito è pattellare. Bene vichinghi e vichinghe, questo era il video, se il video vi è piaciuto vi invito a mi piacere il video come se non ci fossero domani, commentate qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella delle notifiche se non l'avete ancora attivata. Non ci vediamo assolutamente in un prossimo video, vichinghi e vichinghe, io vi ringrazio per la visione e ciao, grazie.